Ciao ragazzi, sono appena usciti dall'irruzione che abbiamo fatto alla Social House con i The Show. Mi dispiace, ci specialmente abbiamo visto i June, abbiamo visto i deperiti, sicuramente non hanno neanche le doti per poter portare avanti il progetto del Giro. Sono un po' i cugini che avrei voluto avere per prenderli in giro. Sì, quelli che hanno nato lì dai coppini, quei cugini. Poi l'anno dopo i riveri che hanno sviluppato sono muscolosissimi. Sì, sono dopati. Comunque questa mattina per aiutarli siamo andati a fare il lavavetri. Abbiamo lavato non solo vetri, anche teste calde. Anzi, noi siamo ottimi lavatori e pulitori di teste calde. Brutto, non ci dici. Vai, 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 vai. Benissimo, la paverezza. Abbiamo risposto subito all'appello dei The Show, più che altro perché c'è una produzione dietro, quindi magari non si sa mai che la prossima notte chiamino noi e ci paghino per fare questa cosa. Anche perché noi siamo bravissimi a costruire casa. Molto più dei The Show. Stavamo quasi pensando di comprare un terreno qua vicino a Casino dei Pecchi e costruire un giorno prima, finendo un giorno prima. Così, giusto per dargli fastidio. Un esperimento incredibile e potrebbe essere utile anche per rimettere a posto la nostra casa. Anche no, io l'anno prossimo compro casa, The Show, se volete fare il programma a casa mia, così almeno non devo spendere i soldi per la ristrutturazione. Anche solo a mettere le menze. Continuate a seguire l'esperimento dei The Show sui social network di Rai4. Utilizzando l'hashtag Social House. E se avete voglia di inviarci dei soldi che poi noi porteremo posto ai The Show, inviateceli pure, adesso vi diamo Liban. Sì, Liban è IT02-000-000-844. Ciao ragazzi, grazie. Sì, faccia bene. Viva Social House. Bravo. Grazie. 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 Grazie.